Se non fosse stato veramente volante Conta, il capone è venuto bene Eh, ma perché ho sbagliato il volante? Ah, no, che prima hai ripetato Oh, ci sono potenti saltelli, come sia No, no Ehm, un teletto proprio no E' un teletto proprio no Eh? E' tutto Molto Quindi Macca Mario Yeah Yeah Grazie. Grazie.